I temi dello smaltimento dei rifiuti tornano in primo piano con una conferenza stampa di gruppi di opposizione, SL, Sinistra per Arezzo, Italia dei Valori e 5 Stelle. Cosa non vi conviene? Siamo venuti a conoscenza tramite una comunicazione anonima di un procedimento penale che ha visto interessato l'inceneritore di Lucca, di Falascaia, che di fatto dal 2008 è fermo, dove si mettono in evidenza tutta una serie di manomissioni sistematiche ritirate nei confronti dell'inceneritore di Lucca, dove all'ultimo del procedimento sono stati condannati gli autori di questi fatti e dove gli stessi testimoni del procedimento indicano che determinati passaggi erano stati elaborati e erano passati prima anche dall'inceneritore AISA di Arezzo. Noi abbiamo fatto questa interrogazione e abbiamo scoperto di fatto che nessuno della giunta, compreso il sindaco, sa assolutamente nulla, evidentemente così ci è stato risposto, né degli strumenti per esempio che l'impianto di AISA ha per controllare determinati scarichi, determinati prodotti tipo l'adiossino e i furani. E più questa cosa che abbiamo letto semplicemente, questo ci mette in profonda agitazione perché pensiamo che invece ci debba essere una profonda trasparenza. Vi siete rivolti alla magistratura? Sì, certo, è un atto doveroso d'altra parte, ma è un atto che viene proprio dalla procura che ha indagato su questo aspetto come si diceva prima a Falascaia, quindi è un atto doveroso.